Ben ritrovati, è una nuova puntata di Unica Focus Talk Show, una trasmissione quotidiana di approfondimento e oggi abbiamo il piacere di ospitare due persone che ci parleranno di qualcosa di importante e anche di inedito se vogliamo, che nelle prossime settimane, nei prossimi mesi avverrà in provincia di Lecco e che riguarda soprattutto gli appassionati di musica. Abbiamo con noi Lorenzo Tentorio dell'Associazione Risuono e Chiara Commito dell'Associazione Monte Rock. Parliamo dunque di festival musicali giovanili, l'offerta si diceva sempre che ce ne sono pochi, anzi c'è qualcuno che non ce ne sono proprio, invece poi ce ne sono anche tanti che vanno in rindondanza, dunque avete deciso di fare un po' squadra. Abbiamo deciso sì, di fare squadra appunto per presentarci tutti insieme, l'obiettivo non è neanche farci sentire per dare fastidio, è proprio dire guardate che esistiamo, esiste qualcosa, magari anche spronare qualcun altro a muoversi, far capire che ci sono delle realtà che si muovono a livello amatoriale, pur con una grande serietà nell'affrontare la cosa, per fare promozione che sia musicale, sociale, sportiva e ci sono tante cose che rientrano in questi ambiti e quindi ci sembrava sbagliato non fare una cosa tutti insieme. Diciamo che il minimo denominatore è la musica rock, però nei tanti festival, Chiara voi siete in realtà a Montevecchia, c'è anche un passaggio generazionale perché magari ci sono quelli come noi che arrivano dalla vecchia scuola, dall'altra parte ci sono i giovani che oggi magari non ascoltano solo rock e cercano di capire, quindi da una parte fare rete sul territorio e dall'altra mettere insieme le generazioni, giusto? Assolutamente, questo si vede all'interno proprio dei singoli progetti e in questo caso dall'unione dei singoli progetti, oltre alla musica vengono fuori tante proposte in ambito culturale, di sostenibilità, insomma temi anche ancora più attuali, su cui si pone tanto l'attenzione, quindi ogni festival al di là di aggiungere magari dei generi prettamente musicali va anche a lanciare dei messaggi e da qui credo ancora più doveroso sottolineare come l'unione sia fondamentale e aggiungerei oltre che per arrivare al pubblico che come dicevate appunto magari non ci conoscono e si perdono anche degli eventi che invece ci sono e hanno uno spessore, anche per creare una rete che serva a noi per collaborare, perché fare festival, fare feste non è per nulla semplice. Anzi diventato sempre più complicato. Sempre più complicato, quindi avere l'esperienza di chi li gestisce già da tanto tempo, un'intuizione più nuova, un'idea più nuova, un contatto nuovo crea come dire l'unione di tante teste, tanti progetti e sarebbe stupido non divulgarle insomma. Io credo che voi abbiate avuto una felice intuizione perché se da una parte è vero che c'è tanta offerta, dall'altra al nostro territorio sempre, ma forse in generale non solo al nostro territorio, in Italia manca sempre il famoso festival estivo, perché chi ha avuto esperienza di andare all'estero sa che ci sono diverse occasioni durante l'estate con anche nomi di richiamo importanti, questa cosa da noi per una serie di ragioni non è mai successa a livello nazionale, a livello locale ancora peggio, però insomma già mettere insieme tutte queste mi sembra un'intuizione felice. Certo, allora in verità noi abbiamo questa, dobbiamo citarlo perché abbiamo questa un po' anomalia del nameless festival che è in provincia di Lecco. Sì, giustamente, io guardavo la musica. No, è un'anomalia però non lo sentiamo molto locale, è un ragionamento nazionale, mentre questo le nostre feste vanno proprio a cogliere il punto sul locale, sulla gente, su quelli che vivono... Anche, diciamolo, sul condividere il palco, chi suona lo sa, è anche piacevole insomma condividere il palco con qualche musicista più affermato, è al loro fianco ed è anche una cifra, giusto? Assolutamente, allora in verità devo mettere una premessa, quando abbiamo cominciato a trovarci nell'autunno scorso e parlare di cose tecniche, come diceva Chiara, è stato un po' difficile perché abbiamo scoperto di essere in 12 festival e tutti e 12 avevano una testa diversa, con richiami diversi, io pensavo fosse molto più semplice metterci insieme e parlare di cose tecniche invece, però è stato interessante perché abbiamo scoperto che ognuno affronta le varie problematiche organizzative in modo totalmente diverso e mi ha fatto molto ridere questa cosa perché non me l'aspettavo e quindi però uno dei comuni denominatori di tutti è diamo spazio alle realtà giovanili che normalmente non ce l'hanno, che può essere il gruppo rock, che può essere il regista di piccoli filmati, che può essere l'attivista giovane, che può arrivare addirittura dalle scuole superiori, tutte queste cose, è uno degli obiettivi che io ho notato fondamentali per ognuno di noi. Benissimo, entriamo un po' nel dettaglio perché ci sarà un'anteprima a brevissimo di questa iniziativa e magari parliamone e poi facciamo che un pochino il quadro su tutti questi eventi, questi 12 eventi, cioè dove si tengono, Chiara magari ci dai una mano tu che sia un po' più... Sì, ci sono tanti, quindi spero di ricordarlo. No, vabbè, anche se no, giusto per spiegare un po', perché non tutti sanno, vabbè, che offerta ci sarà. E poi l'altra cosa importante, magari dopo parliamo anche un pochino dei nomi in cartellone. Sì. Allora facciamo che... Scusa, tu, lei magari si divide dalla parte più brianza. Ah, vabbè, giusto, possiamo anche farla a livello territoriale. Facciamo vedere, come dire, qualcosa che può aiutarci a orientarci tutti quanti. Esatto, vai, vai. Che è la nostra mappa, che quest'anno avremo l'onore di presentare per la prima volta, proprio in occasione del 18 maggio e poi nei vari festival dove le persone... Ecco, il 18 maggio, scusate, cosa succede? Presenteremo appunto questo progetto alla stampa, unica in anteprima. Ah, bene, ci siamo. Assolutamente. Siamo unica non per niente. Quindi ci uniremo per presentarci, per presentare il progetto e attraverso l'utilizzo di questa mappa avremo modo, anche in modo, come dire, infografico, di far comprendere dove siamo collocati, no? Come vedete ci sono anche delle figure in chiaroscuro che ovviamente devono essere svelate nel momento in cui una persona si può recare al singolo festival e otterrà una delle figurine. Ah, c'è anche questo risvolto qui. Assolutamente, sì, abbiamo pensato... C'è una sorta di itinerario, il pellegrino del rock. Esatto. Un ulteriore modo per arrivare alle persone e anche creare quella sorta di intimità che solo la raccolta di figurine e carte può dare, probabilmente. Beh, quindi allora a partire... Ah, sì, e da qui nasce il fatto che questo progetto si chiama Eventi Bestiali. Perché? Perché buona parte del festival aveva come simbolo un animale o qualcosa che ricordasse. Quindi abbiamo deciso di impostarlo da quel lato perché appunto la scimmia, dinosauri, unicorni, tricheco, insomma ci sono varie cose. Abbiamo scelto appunto di chiamare questo progetto che racchiude tutte le nostre feste Eventi Bestiali. Benissimo, quindi io vedo, si parte a maggio a Gabbiate, poi una pausa, da giugno, poi si parte in Brianza, Lago, tra l'altro con alcuni eventi contemporanei, ma si può andare una sera da una parte, una sera... Certamente. Assolutamente. E insomma la sfida è portare a casa tutti i simbolini. E sarà un po'... ci rendiamo conto che è un po' difficile, però sai mai. Chi riuscirà ha ricchi premi, insomma. Ok, vediamo... Tanta stima. Vediamo un po' di capire, vabbè, quindi non solo festival rock, non solo musica, ma un po' in generale, qualche nome giusto per avere un'idea, anche perché vabbè, poi dopo tanti festival sono conosciuti già, hanno già la loro storia. Sì, in Brianza mi sento di porre un po' la luce anche su nuovi festival come quello di Briap, che si occupa tra i tanti, come dire, progetti che porta avanti, anche proprio di dar nuova vita a luoghi della Brianza, come dire, o in disuso o poco conosciuti. E dove si terrà quindi? Quest'anno si terrà a Monticello in una vecchia villa, non posso spoilerare la location, quindi in una vecchia villa molto rinomata e si occuperanno di dar luce a qualcosa di più nascosto. Posso parlare del Monte Rocco un po' perché ne faccio parte, un po' perché fa sicuramente parte dei festival un po' più freschi, un po' più nuovi, come è una grafica. E' un festival che pone la luce invece sul tema della sostenibilità e di diritti umani, quindi cerca di declinare un po' tutte le attività, che siano la musica, la cultura, lo sport, in quest'ottica. Quindi con l'attenzione alla cooperativa, all'associazione che può portare un servizio in più sul tema verde, a un'inclusione di tutte e tutti all'interno di un luogo fisico, come quello di un parco, che a volte non è accessibile proprio a tutti. Quindi si occupa un po' di avere il focus su questo, fino a Sant'Anna, anche questa in piena Brianza, che però è un festival come dire che c'è da tanto tempo e ogni anno non smette di stupire, mi sentirei di dire, perché con qualità e attenzione scelgono sempre... Festivale Sant'Anna a Casantenuovo, l'ultima settimana di luglio, ok. Sì, ecco, poi bisogna avere assolutamente, avete un sito, insomma qualcosa, recuperare questo è fondamentale per l'estate, ecco, diciamo. Sì, sì, abbiamo comunque, ci stiamo, questo lo distribuiremo durante le feste, sicuramente il 18 maggio la presentazione, e poi mano a mano durante le feste avremo modo anche di avere altre copie, sperando che la gente abbia interesse a questo cosa. Sì, lei giustamente ha citato alcune feste, ha citato i giovani, ha citato i giovani, in verità ci sono feste molto, diciamo, che ormai raggiungono numeri incredibili, perché voglio innanzitutto citare Sonica. A Mandello, certo. È la festa che chiude la rassegna, diciamo, all'ultima di agosto, quest'anno lo fa il ventesimo anniversario, come sappiamo richiama sempre un sacco di gente, quest'anno dovrebbe avere i Pancreas, storica band appunto punk italiana, come... Perché questo condizionato, no, ci saranno i Pancreas? Ci saranno i Pancreas, sì. Con le band non si può mai sapere, questo noi organizzatori lo scopriamo presto. Poi ha anche Rocchi in Riva, da Baglia Largiana, splendida location, perché loro hanno questa possibilità, il parco sul lago, quindi se qualcuno vuole anche fare il bagno. Altre storiche, beh, le stesse Sottoni Molesti, noi quest'anno raggiungeremo la diciottesima edizione. Che era un festival che si teneva a Lecco e oggi invece a... Olginate. Olginate. Nomi di rilievo. O anche, attenzione, perché la filosofia sottesa non sono solo i grandi nomi, ma sono le opportunità di vedere bei concerti. Bei concerti, sì, esatto. Uno ci spera sempre che siano bei concerti, comunque quest'anno abbiamo fatto un passo un po' più lungo rispetto alle nostre capacità. Da solite, inviteremo i Giuda, il venerdì 28 giugno, e i Cacao Mental, per chi vuole ballare un po' con ritmi latinoamericani, il sabato 29. Le altre feste, sicuramente da menzionare, San Paolo in festa a Montemarenzo, che si svolge nel bosco. Anche lì c'è un impegno molto forte dell'Associazione Handec, che richiama tanti abitanti di Montemarenzo, e mi pare siano 100-150 volontari a tenere in piedi la festa, che non è per niente una cosa ovvia. Freccia Rossa, che quest'anno raggiunge il decimo anniversario, anche loro si impegnano molto per tenere alto un po' il nome. Di verità, loro erano nati a Cassago, negli ultimi anni si sono spostati a Barzago. Qualche chilometro, insomma. Sì, qualche chilometro, però gli hanno trovato la disponibilità. E' sempre difficile anche avere quella. Vabbè, Ghost Town dedicato a Consonno. Ghost Town io penso sia il più simpatico, con tutto il rispetto, perché più che musicale, perché nonostante loro facciano suonare dei gruppi, è dedicato allo sport, organizzato dall'Associazione Sbanda Brianza, e hanno questa particolarità che fanno, ci sarà una gara, non è una gara vera e propria, è un'esibizione di skater da tutta Europa. Usano la vecchia strada di Che Veda Consonno Scenda Olginate. C'è anche un punto molto bello, perché è il famoso curvone, dove la gente si assiepa a incitare questi skater. C'è una band che suona mentre scendono appunto gli atleti. Insomma. Più bello e anche più pericoloso. Una bella commistione. Una bella commistione, sì. Ah, poi il Pintupi Open Air, che si svolge a Paderno D'Adda, è il festival del circolo Pintupi, che è a Verderio, però anche in questa occasione ha trovato disponibilità a Paderno, quindi vediamo un po' se abbiamo... C'è da dire una cosa, è che comunque la varietà, una volta magari c'erano festival, ma erano monotematici, invece qui in realtà alla fine mi sembra che ci sia, anche nell'offerta musicale non solo, si spazia molto. Sì, per esempio Fantasmagorie, proprio per... Non è un festival musicale, è un festival, una rassegna cinematografica di corti di animazione, spesso rivolti verso il sociale, quindi proprio per far capire che... Ci sono diversi canali per arrivare un po' qui. Ecco, però diciamo così, un tratto comune che voi sottolinevate, giusto per capire, è l'opportunità di andare un pochino oltre l'offerta, diciamo così, canonica o istituzionale di eventi, ma soprattutto di andare a conoscere anche realtà con volontari, i giovani che si mettono in gioco e... Come? Eh? No, questi... Sembra poco, però questi 12 festival ci sono all'interno... Qua più o meno un mille persone che si impegnano per farli andare. Sono numeri considerevoli, ovviamente tutto a volontariato. E questo, per esempio, parlo nel mio caso, io sono quasi 25 anni e non ho mai messo in tasca un soldo, però è la passione che ti porta avanti a fare queste cose. La nostra speranza, anche lei prima, che siamo incontrati prima di venire qua, citava, dice, la mia speranza è che chi viene a Monteroc, se vuoi dirlo tu, poi si è interessato a ciò che gli propongo. Sì. Ma soprattutto ci sia anche un passaggio generazionale, perché, ahimè, voglio dire, i giovani... Si parla tanto male dei giovani, già si parlava di quando eravamo noi giovani male perché facevamo delle rassegne di musica rock. Cioè, oggettivamente oggi è anche un po' un'esigenza coinvolgere le gare, no? Perché è un po' più disegregato anche il panorama giovanile. Sì, ripescare i giovani, perché in realtà abbiamo tante persone di altra leva, diciamo, Diversamente giovani? Ma veramente in là con l'età, che in realtà vengono, sono in prima fila, salgono sul palco e fanno il baffo a tanti giovani. Però recuperare in realtà tanti giovani è anche un'esigenza sociale, mi viene da dire, perché attualmente, come dire, il panorama non è dei più rosei e ci sono persone e ragazzi che sono molto più ritirati. Quindi queste tipologie di feste probabilmente diventano anche un'occasione per rilanciarsi, per essere un po' più motivati. Anche, per esempio, cito uno dei principi del nostro festival è proprio dare un palco a tutti i giovani che, come dire, non devono aspettare il contratto possono mettersi alla prova, possono testare le proprie passioni, le proprie competenze e hanno un palco più metaforico per farlo. Penso che sia già bello che ci siano ancora oggi dei giovani che suonano o che si esibiscono, perché oggettivamente c'è stato un po' di fermento. Però è evidente che, insomma, è più facile per tutti, magari, insomma, quando uno suona o ha in mente un'idea, vuole mettersi in gioco e organizzare, appunto si deve mettere in gioco. Oggi è ancora più facile fare, insomma, farlo tutto in maniera virtuale sui social, no? Sì. Esatto. Non è minimamente sconvolto. Io sono rimasto sconvolto, poi vi lascio dal fatto che oggi le basi per cantare si scaricano. Già fatte. Io non ho una roba che non concepisco mai. Sì, e non hai ancora visto l'intelligenza artificiale applicata alla musica. Eh, vabbè. Una cosa c'è da aver paura. Io ho sinceramente paura. Però, insomma, l'arma migliore contro queste paure, che sono problemi, non sono paure che ci saranno, sicuramente è quella di mettersi in gioco e questo risultato che avete ottenuto, che è un primo passo, sicuramente, perché è solo l'inizio, speriamo, è forse l'antidotto migliore a tutti questi problemi che si porranno a breve, insomma. Certo, certo. Sì, volevo ritornare su questa cosa dei giovani che è così difficile. Sì, la società, no, è una cosa che nella nostra associazione abbiamo discusso molto in questi anni. Dicevi prima, noi siamo stati a Lecco per tanti anni, anzi, già che ci sono... Ne approfitto per ricordare... Sarebbe per tornare a Lecco, no? No, 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 ne approfitto per ricordare la figura di Carlo Invernizzi. Ah, certo, assolutamente. Che è bancato alcuni mesi fa, l'anno scorso. Lui è stato uno dei primissimi a credere in noi, a spingerci a fare, e lo ricordo proprio con tanto... E questa cosa a noi ci ha dato un po' fastidio, perché quando è successo quel fatto di cronaca, di Baby Gang, che aveva fatto quel video sul Via Letturati, di questi ragazzi, ovviamente, che avevano sparato addirittura nel video in centro città, sicuramente è una cosa assurda, non deve esistere. Ma quello che noi ci aveva colpito era la risposta a quale è stata. Manderemo più polizia. E noi dicevamo, ma questi ragazzi, chi è che li? Chi è che li? Li richiama. Noi venivamo fuori, noi siamo nati, noi, Sonica, Fantasmagoria, che è Dinamo Culturale. San Paolo in festa, non in particolare, ma uno degli organizzatori è nato dai nostri stessi progetti che abbiamo frequentato. E tutti arrivavamo da dei progetti che erano focalizzati sui giovani, che non ti portano nessun riscontro, spendi solo dei soldi, e la politica, ovviamente, queste cose purtroppo le dimenticate. Eh sì, ovviamente ci sono state tutta una serie di esperienze che hanno portato... E noi ci ha colpito, dici, che cosa fanno le nostre comunità, i nostri politici per questi giovani? Un tema sicuramente importante, a cui si somma un altro tema, che è quello delle seconde generazioni, che significa che ha con sé tutta una serie di criticità che c'erano anche all'epoca, per l'amor di Dio, ma oggi è sempre difficile affrontarle per quelle difficoltà che ci sono creati insomma un po' dalla dimensione social e dal fatto che comunque una volta, voglio dire, eravamo anche, c'era anche l'unica alternativa all'egregazione, era quella, cioè facciamo il festival perché non ci piace andare in discoteca, la butto lì. Oggi è tutto un po' più complesso. Eh, certamente. Però insomma, ragazzi, ci sono 12 festival da giugno fino ad agosto compreso. Più meglio di così? guarda, non saprei cosa proporre. Dico di più, possono essere anche un volano per l'attrattività perché queste iniziative che sono fatte qualcuno, perché non immaginare come i turisti che sono sul lago in vacanza. Ci dobbiamo andare fuori dalle scuole a volantinare come se facevano una volta. Vabbè, noi cercheremo di dare il nostro contributo con la nostra trasmissione e comunque magari segnalando di volta in volta l'appuntamento. A me piace dire, dico per chiudere una cosa, c'è l'elenco dei festival ma non ci sono gli artisti che suonano. Quindi sarà una sorpresa scoprirgli ogni volta. Certamente. E soprattutto non c'è quel nome, cioè quell'evento legato al nome, giusto? Ah no, no, assolutamente. Ma l'obiettivo proprio non è quello. Lo so che tu dici ma la gente per convincerla devi dargli la belva da circo. No, non è quello il punto. Muoviti, esci di casa. C'è una festa sotto casa tua. Esci, vai. O nelle medie da te. Vai, bevi una birra, mangia il panino con la salamella, vedi qualcuno. Conosci qualcuno. Conosci qualcuno. incontri qualche ragazza, qualche ragazzo. Giusto. Colto un po' di musica. Pensiamo a questa immagine dell'estero dove i festival se piove tutti escono comunque. Eh, questo volevo dire che l'unico nemico che avete in questa vicenda è il tempo. però forse il cambiamento sta proprio lì. Se iniziamo ad avere un po' quella mentalità che in altri paesi del mondo invece hanno dove piove siamo ancora tutti più contenti di uscire e andare a festeggiare sotto un palco forse abbiamo fatto bingo. Vabbè, dai, passo la volta. Iniziamo. Io ringrazio sia Lorenzo Tentorio che chiara commito di questo anteprima e non veniamo l'ora di capire quest'estate cosa andrà. Pioggia o non pioggia? Vi invitiamo venerdì 18 maggio allo spot di Galbiate in cui presenteremo appunto ore dalle 18 in poi benissimo presentazione dei festival del territorio lecchese e poi musica per tutta la sera cucina però se non ricordo male mi sembra che non vorrei sbagliarmi ma il 18 maggio è sabato. Ho detto venerdì? Va bene. Va bene. Sabato 18 maggio a Galbiate dalle 18 in poi per scoprire il calendario di eventi dell'estate. Grazie a Lorenzo Tentorio che era convinto. Grazie a voi. Grazie.